Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darkfalle Channel che è un nuovo video sul canale Oggi sono qui in compagno di mio fratello Lack e ci troviamo sul server ai pixel IP in descrizione Ovviamente il server è premium per portarvi per la prima volta insieme agli Skywars Old School non modalità insane Nè modalità quella normale ma bensì la modalità con 100 player ovvero la modalità mega Ovviamente non sono 100 isole separate ma bensì siamo in team composto da 5 persone Quindi in totale saremo una ventina di team Ovviamente ragazzi non abbiamo idea di quanto durino queste modalità dato che è la prima volta che le facciamo E quindi al massimo ne porterò una o due quindi non lamentatevi Comunque la mappa è abbastanza figa Lack Se sentitevi sottofondo una musichina natalezza non è quella che metto nei video ma è Lack dietro al presepe Con la musichina Comunque siamo in team con Lack Una mucca Un che cos'è questo? Maresciallo E un senza skin Ciao Steve E vabbè ci troviamo sull'isola penso Ora mi butto su questo È bellissima sta mappa Lack Ovviamente ragazzi dobbiamo cercare di prendere le ceste perché si trova tutto là dentro E ovviamente anche se siamo in team Oddio una pozione Una c'era Ok Ho preso la chase plate No si è messo davanti Vorrei che ti renderò la persona più felice per me Arco e frecce? E che arco Buono Non lo buttare a terra per ora Vabbè ragazzi qua c'è qualcuno Non è piccone? Sì un piccone di diamante ho Lack ha le diamante veloce Ah giusto E più di diamante Ma anche qua solo c'era un piccone di diamante e nessuno di voi si è preso però va bene Dai folle veloce Lack qualcuno di voi deve andare sopra a controllare che non ci pussano Folle veloce Tu raccogliendo io Prendi questo Prendi questo Prendi questo Quanto cade giù questo sicuro A due diamante Prendi anche questo ci do Preso Quanto c'è? Sono a due diamanti Ci stanno tirando già le frecce Puoi vieni veloce Guarda la cesta Ah quella cesta Arco Ok uno puoi tenertelo anche tu lack Hai frecce Sì sì Ok Ho un piccone di diamante te lo metto dentro Due diamanti vabbè se ti servono Io potrei farmi la spada di diamante Io c'ho la spada di diamante sharpness 1 Io voglio fregarla agli altri Comunque seguiamo sopra lack e incominciamo a difendere Che c'è? Devi Grazie Hai la spada buona? Sharpness 1 diamante Ah buona Vabbè qua ci abbiamo controllato Allora ragazzi Dobbiamo decidere già chi attaccare Perché Io già ho deciso chi attaccare Eh già hanno fatto il ponte Dall'altro lato c'è uno con sharpness Si è tirata la bottiglia del coso E sta scappando Allora da un lato siamo difesi Perché stanno facendo gli zappatori Eh lack devi stare i cover Poi mi butto giù nel vuoto Perché sono sharp Ok hanno buttato Ultima quanta vita toglie quello Cos'è la pozione della velocità E della poison Non va bene Eh lack è per caso così da mangiare Perché sono lowissimi Quello ha power 3 nell'arco Non lo so Dove c'hai? Eh sotto nel buco Qua Tirami la pozione Se puoi Anche tu dalla questi 3 Mettiti accanto a me E tiriamoci alla vicenda Vai Grazie Eh ci dobbiamo inventare Oh sta pushando con la lava L'ho buttato giù? Si La lava la lava Eh se magari il nostro Ok Penso si stesse bruciando I nostri pazzi Ok hanno pushato fuori le pusha Uno solo dei nostri è pushato Lack non ha senso andarci Ti regli le frecce Vai pushando Infatti questo è quello che sto facendo E dobbiamo stare attenti Lack perché ogni volta Ragazzi che uno cerca Di focusare da un lato Poi ti attaccano dall'altro Guarda davanti non ci si l'acqua Guarda davanti non ci si l'acqua La tripla Ma mi potevi chiamare Che li avevi attaccati Lack Mi ho detto pushiamo Ah si di in due Ok Comunque l'acqua Stanno arrivando anche dall'altro lato I sticcoli hanno messi benissimo Mi sono posato tutti nelle cesse Avevano protezione 2 Dappertutto Va O tu spade di diamantozzo Togli di più di sicuro Dalla mia La spade di pietra incendata Addio Comunque blocchi lack Non buttarli Perché ci servono Lo so Ok Piccone di diamante Stanno pushando Questo qua è tornato all'acqua E questo chi cavolo è Con la cesse di diamante Ti riconosce Lack e questo qua Sono risultati all'acqua Meglio che la chiudi Ha tirato la pozione Della poison E ce l'ha tirato in forza Ciao città Per caso i pantaloni Lo butto già col piedinare Ok Ma lack stai facendo un casino di kill 5 kill io sono Nice Dove si vede non le kill? Io sono Io sono a 0 Cioè Avrò hitato il mondo Però sono a 0 kill Comunque sono rimasti 14 Dove sono gli assist 0 assist anche Ragazzi Io le kill le ho fatte È tutto un complotto Comunque lack torna E la nostra isola Attacchiamo dall'altro lato Che qua c'è gente Molto Gnorre Anzi Gnorre È troppo forte Sono forti questi Ah non sono team Perfetto Aspetta che ti butto alla velocità No vabbè Niente Oddio Ma lack Il click assurdo Bella Lack cover me Che è No te me l'hai stillato Tieni te le ridoro Sono le scappette di diamante ho preso Tieni Non mi interessa No no mi hai stillato la kill Ah almeno una ragazzi Vai folle Pusciamo di qua Aspetta che sto buttando le cose giù Ho trovato anche la lava A me piace la lava ragazzi Sac sac Perfetto Allora il nostro Sto andando al semicentro Quindi seguiamo Allo meno stiamo leggermente in team Comunque è fighissima sta mappa Cioè il centro è qualcosa di spettacolare Folli vieni Non più su Quello sarà la mia preda Vieni La tua preda Ma essere preda di là Comunque dobbiamo controllare tutte le isolette Perché molti stanno a camporare Lì Aspettano fino alla fine Non so perché stavo cadendo giù Non avevo messo Anche io sto cadendo giù all'inizio C'è qualcuno qui? Non mi sembra l'hack Ma lì è pieno Ah là sotto si ok Ti copro io tu Fai il ponticciuolo Cannavacciuolo Comunque al centro c'è qualcuno E di sicuro sarà full cristo Andiamo al centro no? No Per il momento no Io opterei per attaccare Quelli che sono nelle isole C'è qualcuno 10 minuti è rimasto E poi che cosa succede? Ci ammazzano a tutti? Attento davanti a te l'hack Vole lo so E hai Hai Pozione dell'avvelenamento No mi dai i blocchi Sì Tieni Sack Tieni la velocità I blocchi dove sono? Eh lato a destra l'hack Se li prendi magari Ok quello là ragazzi Lo voglio buttare giù Perché già so che salirà là sopra Colpo No Pensavo andassi su la scala Vole vieni Attento che ti vuole buttare giù Ci hanno tirato anche Che fa questo? Lo ucciso E' un genio proprio del male Dunque l'hack attento che dal centro ci tirano le frecce E' andato a destra quello E' sotto? Non mi morire Non mi morire Non mi morire Non mi morire Ok Non mi morire Lo ha arato Ah ma ancora chi l'ha a me Ti sembra normale Comunque è meglio protezione 3 Oppure la cespetta di diamante Che dici l'arco? Protezione 3 Sul ferro No protezione 2 scusa Sul ferro Sì Vabbè ragazzi secondo me è meglio questa Poi in caso nei commenti schiederlo Aspetta che butto queste cose Ho 11 diamanti E piccone efficienza 3 di diamante Ti serve l'arco con power 1? Poi se tu mi fai gli stivali di diamanti Se non lo colpiamo Ah ma c'è questo cuore dei nostri Che ci sta seguendo Le ho buttate gli stivali di diamante? No Perché io ho gli protezione 2 No i stivali Cosa? I pantaloni No Vabbè facciamo gli pantaloni di diamante E tu cosa mi dai a me? Pantaloni di ferro E ti posso dare mille frecce Pantaloni di ferro Eh le mille frecce mi interessano Vabbè Vieni qua te l'ho messa nella cesta Vabbè fermo fermo Sotto sotto Uh sciarpo nessuno Spada di diamante buono Ecco l'ho messa nella cesta C'è anche pozione Prendela tu Non la voglio Questo qua Ok almeno non ho i pantaloni Vieni folle Che c'è? 30 45 20 milioni di frecce Vabbè andiamo Allora l'ac Siamo rimasti in 3 Noi Più 6 Poi ti interessa qualcosa A me manca tutti i diamanti Però ho tutta protezione 2 Quindi Ma perché stai facendo sto ponte Se già ce l'abbiamo Vabbè Lasciamolo fare Comunque aspetta Vediamo se accanto a noi Non c'è nessuno Di sicuro saranno O al centro Oppure ecco Ho visto uno là sotto Amico ce la facciamo Cioè Sto qua stava facendo il coso antico A tuta nabbi Però non c'è nessuno Che ci tira le frecce Dunque l'acqua Dobbiamo andare a sinistra Da questo lato Qua? No Là non c'è nessuno Qua sotto Non c'è nessuno E poi c'è nessuno Sì perché c'è stato Il rifiuto Dalla cesta In tecnicamente Ci potrebbero essere Cosi interessanti Però Enderpearl Buono Perché? Ho visto all'improvviso Tutto bug Ho detto che succede Sto morendo Luck vieni? Cioè venite Vole Sì? Dove sei? Allora è rischiosa No? Però è figa Ma non so dove tu però sei Vieni Ah là dietro Dove c'è Joshua? Eh che devi fare? Vieni velo Comunque ho visto i nemici Dove sono Almeno altri due Non muovere Io fermo qua Fermo Che c'è? Il nostro ha usato l'enderpearl Sì è andato al centro What the fuck? Cos'è? Il piccone Fighissimo Vabbè Ma che non lo fare Crei buchi neri Vieni di qua No andiamo con il nostro leato Ma dai Al centro non ci voglio andare Non lasciare Joshua Vabbè Si è chiamato Joshua Ha preso fuoco da solo Non avevo fesso Ha preso fuoco da solo Tu vuoi lasciare una persona del genere da sola? Ma meglio sola che me l'ha accompagnata Comunque il centro fu abbastanza vuoto Mi sta anche là ghicchiando qua dentro Che mi scopriamo 400 fps Però vedo scatti Comunque l'hack Ecco ho visto uno fu il diamante E uno fu il ferro Due sono Spacco io per la coppa Vieni A destra ci sono Certo che Lucai dice di spacco di coppa E poi la musichetta di sottofondo natalizia Non è l'huack Non è musichetto Vieni di qua E io c'è Eh l'hack sono davanti a noi Ho una pozione della Vieni Che butto la velocità Ma io c'ho l'hender pearl Eh ma non la usare Ehm fò l'hack Tutti e due con l'arc, pure incendato Io la poisonous luck Io posso puscire con la enderpearl Eh, non lo fare Dai falle, gli pusci di enderpearl e poi pusci tu Ah, non mi sembra di tanto Dai falle Vabbè, vai, facciamolo Ce l'hanno pusciato No, non ci credo Non ho capito niente questi, eh Ok, se ti fanno No, se ti posa al centro, luck No, è morto, è morto Ok, l'altro l'ho mozzata Ah, qua è morto Perché aveva mezzo cuore E ha presi i danni da enderpearl e sacche Tutte and death Quale c'è uno qua, vieni È al centro, sì, un attimo però Che devo mettermi la fire resistance Non ci andare da solo Eh, ciao luck Sono un genio Mi sono buttato la posizione sotto i piedi Perché c'è il drago? Tu li vieni veloce Ci sono Io gli ho levato un sacco di cuore L'ho visto Io l'ho focusato è morto Penso Lo so gitter cliccando Lo so gitter cliccando Non ha capito niente questo Eh, ok Ah, ho trovato il to pick one house Arco power 1 Vabbè, intacca È rimasto l'ultimo Death end per foil Ah, è sopra C'è tirato la posizione di avvelenamento Almeno a me Dai, fesso, muorici Luck ha cresciuto Luca, sei fuori tu hai perso Ammi un cuore Hai vinto? Abbiamo vinto? Ma, quella luck Luca, prima in classico Come kill 9 Mi devo trovare almeno la chest Mi hanno fatto 3 e 1 assist Vabbè Vabbè, ragazzoli Questo video Luck troppo forte 9 kill e 3 assist Questo video verino è finito qui Niente, superiamo gli 800 like Per il prossimo episodio 850 Vabbè, ciao Lasciate like Ciao 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 Ciao